Cosa mi affascina, no? Mi affascina la meccanica. C'è una passione per l'arometteria. Se non si ha una passione non si può arrivare dove siamo arrivati noi oggi. La Nobili nasce nel 1954 come azienda commerciale. L'ha fondata mio papà, però mio papà era un commerciante. Siamo sicuramente l'azienda di rubenteria più attrezzata che c'è al mondo. I primi macchinari furono stati comprati per decisione di mio padre, per l'ampliamento e l'evoluzione dell'azienda. Abbiamo una produzione di alta gamma che ci dà la possibilità di fornire sia le grandi costruzioni come gli ambienti progettati dagli architetti. Con le macchine che avevamo non c'era la possibilità e quindi la DMG Mori con la loro tecnologia c'era la possibilità di fare delle forme. I nostri prodotti è a un certo livello che non si sarebbero potuti fare invece con le macchine tradizionali. Le macchine DMG Mori sono quelle che funzionano meglio oggi sul mercato. DMG Mori nella fabbrica è grande parte della produzione. Anche lavorazioni molto complicate che altre macchine e altri brand non ci permettono di arrivare a queste lavorazioni. Ci ha dato la possibilità di lavorare anche senza presidio umano, quindi più o meno per circa 8-9 ore senza personale. Quindi ci dà la possibilità di avere dei costi decisamente inferiori. Al futuro abbiamo delle nuove cartucce che ci daranno la possibilità di fare forme molto innovative sui prodotti. Piano piano ci stiamo avvicinando, anzi adesso siamo già a un buon livello e sicuramente per la passione che ho arriveremo sicuramente a produrre i migliori ruminetti al mondo.